Oltre 80 tra abiti, accessori e trompe l'oeil, realizzati interamente in carta con incredibile perizia dall'artista belga Isabelle de Borch Grave, tratteggiano una parentesi insolita nel percorso artistico e di vita del lagunare Mariano Fortuni. Ce lo racconta una mostra a Venezia. Si attraversa una porta e come per incanto si entra in un luogo magico, dove realtà e finzione si alternano, confondendo e coinvolgendo i visitatori, in un gioco senza posa fra i ricordi di Mariano Fortuni e le creazioni di Isabelle de Borch Grave. Paiono incredibili le visioni che si sussuegono innanzi agli occhi di coloro i quali hanno la fortuna di solcare l'ingresso del Museo Fortuni. Il palazzo, durante la prima metà del Novecento, è stato l'atelier dell'eclettico artista catalano Mariano Fortuni, che dà il nome al Museo Veneziano. Pittore, fotografo, scenografo, creatore di tessuti, abiti e costumi teatrali. Artista molto conosciuto, non solo per aver vestito Isadora Duncan e Sarah Bernard, aveva fra i suoi più eminenti estimatori pruste d'annunzio, che lo ricordano in varie lettere scritti, riconoscendone la grande inventiva. La stanza del suo atelier è rimasta invariata e sommata alle altre sue opere rappresenta l'esposizione permanente del museo, che volta per volta si arricchisce delle nuove opere che si alternano durante le esposizioni temporanee, creando un dialogo fra ambiente e i pezzi degli artisti in mostra. Lo spazio espositivo si dilata per accogliere molte realtà. Infatti nel museo rimangono visibili alcuni lavori di Art Tempo, l'esposizione precedente a quella di Isabel, e alcune opere ospiti, pezzi di artisti contemporanei del calibro di Fontana e Vedova, gentili prestiti di fondazioni e collezioni private. Così il museo divenne spazio in continua evoluzione, in un infinito intreccio fra stili e tempi, nel quale l'opera di Isabel si innesta con evocativa armonia. Siamo nella prima sala del Museo Fortuni e cosa rappresenta questa installazione? Dunque, si tratta di una mostra di un'artista belga che si chiama Isabel de Borgrave, del suo incontro con Mariano Fortuni, un incontro virtuale ovviamente, tra due artisti, uno dell'inizio del secolo scorso e lei, e che attraverso questo incontro cerca di far rivivere il palazzo. La mostra Un mondo di carta è visitabile fino al 21 luglio 2008, dalle 10 alle 18, e si snoda per i tre piani del palazzo, integrandosi perfettamente all'atmosfera sospesa, incantata, ma comunque dinamica del museo. Qui siamo al piano terra del palazzo, dove abbiamo cercato di ricreare l'atelier di Isabel de Borgrave a Bruxelles. Isabel lavora su un grande tavolo che fa 10 metri di lunghezza, che copre sempre con un telo di lino, che poi abbiamo voluto appendere ai muri, perché questi teli, che sono tolti regolarmente ogni 2-3 mesi, rappresentano poi la memoria del suo lavoro. Si vedono tutti i segni del lavoro sulla carta che lei fa per fabbricare questi vestiti di carta. Il lavoro di Isabel parte da questa semplice carta bianca da sarto, che viene successivamente da lei colorata, plissettata, tagliata, decorata e modificata, con una sapienza e una pazienza infinita, per arrivare a realizzare le sue fantastiche creazioni, che divengono così reali nella forma, da non riuscire a percepire la differenza dall'originale da cui trae spunto. Siamo in una delle sale di nuova apertura del Museo Fortuni e ci troviamo davanti a delle opere spettacolari. Di che cosa si tratta? Dunque qui in questa zona, nelle vetrine, il conservatore del Museo ha voluto proporre al pubblico i vestiti che Mariano ha creato durante la sua vita, che siano quelli di moda in fondo o quelli di teatro, perché era anche disegnatore di vestiti per il teatro, e vestiti dai quali poi Isabel si ispira per realizzare le sue opere, perché abbiamo voluto giocare su questo vero e falso, ovvero tessuto e carta, da una parte il vestito di Mariano e in dialogo il vestito di Isabel. Il percorso della mostra prosegue al primo piano del palazzo, consentendo al visitatore di immergersi nel mondo di Mariano e nella rilettura che Isabel dà nelle sue opere. La mostra veneziana è per l'artista belga una sfida complessa, non solo per la resa tridimensionale dei preziosissimi abiti, ma soprattutto per l'intenzione di restituire l'atmosfera attraverso la partecipazione empatica e la condivisione dello spirito di Mariano. La passione per la creazione e la sperimentazione, tessile prima e di carta poi, è il filo conduttore del suo percorso artistico, che l'ha portata, dopo il successo della mostra sulla storia della moda, rappresentata da 180 pezzi sempre in carta, ad avvicinarsi all'arte di fortuni, di cui si sente da sempre figlia spirituale. Passando di sala in sala, è impossibile non perdersi nel continuo intrecciarsi fra verità e finzione, nella minuziosa e sapiente riproposizione delle opere dell'artista catalano da parte dell'artista belga, che spinge l'osservatore a interrogarsi sulla caducità del reale e sulle complessità delle pieghe della carta e della vita.